zwan zing personen in automobile il giorno dopo il bracco meccanico di nuovo in piena forma risale la val darda alla ricerca dell'arca perduta al mattino a colazione ho cercato tra i nomi di luogo sul libricino allegato alle cartine tc e ho trovato solo conferme l'appennino è una fattoria degli animali è zeppo di toponimi come capracotta passo del cifalco colle dell'agnello cantalupo orso marzo posti come caniparola gole della gatta vacca rizza strangola galli ho davanti a me una penisola che raglia grugnisce abbaglia ulula un universo che bella mugisce fa chicchirichi nei viaggi l'acustica è fondamentale e oggi nel grande silenzio della montagna spopolata il mio immaginario echeggia di cori animali genera strani incroci di mammiferi rettili e uccelli partorisce combinazioni araldiche simili al mostro urlante dei musicanti di brema animali mitologici dappertutto marco rigolli sindaco di morfasso paesone in mezzo a selvagge colline di carbonai partigiani e cacciatori racconta che sul monte soglio il capo delle guardie forestali ha appena visto una pantera nera come l'inferno fuggita non da un circo ma da una villa di milionari e poi cinghiali a migliaia ovunque e lupi che ne fanno scorpacciate leggendarie ma non basta ancora se vuole la porto da uno che ha conosciuto i domatori di orsi sorride il sindaco rigolli ci mancava l'orso dopo la balena e l'elefante ora la giornata dei giganti appenninici è completa in quest'arca di noè c'è solo un animale che latita l'uomo ieri l'emigrazione oggi la fuga in pianura i sentieri che formicolavano di tagliaboschi pellegrini carovane di mercanti mulattieri migranti pastori contadini e soldati oggi sono quasi completamente deserti il paese di rabbini antica colonia ebraica con il campanile a forma di missile dove trovi anche barbe e nasi medio orientali si riempie solo d'estate per via degli emigrati che tornano per le ferie siamo rimasti in pochi e quei pochi sono anche gelosi uno dell'altro mi dice un anziano emigrato di ritorno dall'inghilterra all'esterno andiamo tutti d'accordo siamo uniti dalla nostalgia di casa ma appena arriviamo qui cominciamo a litigare per strada un gruppetto di bambine giocano chiamandosi in inglese e così andiamo a casa di vittorio biffi classe 1919 a sentire la storia dell'orso biffi ha lavorato una vita all'estero ed è un fenomeno di simpatia lui l'ha visto il corra di luigi morto nel 33 cui l'orso che lui guidava a piedi fino in polonia aveva tranciato un dito con un morso sa tutto di casali domenico domatore di plantigradi e padrone della lingua russa conosce per nome quelli che compravano i bestioni slovenia e proseguivano verso mosca per farli ballare parla in dialetto stretto biffi e sindaco traduce poveracci non facevano soldi puzzavano la gente gli rovesciava pitali di piscio dai finestre dormivano vicino alla bestia ed erano pieni di pidocchi solo i più bravi divennero gelatai gli altri erano disperati ride gesticola strabuzza gli occhi ansima riprende fiato ripesca altre storie dal pentolone della memoria guerra uo uo che annua a febbalà la sumia ossia ce n'era anche uno che andava a far ballare la scimmia dio quanta fame c'era quando ero ragazzo quanta fatica quanto lavoro dei nostri emigranti siamo partiti così giovani che non abbiamo fatto in tempo a fare i partigiani nel 43 eravamo già inglesi americani sbarcavamo in normandia caro mio alcuni sono finiti a era la main a sparare contro i loro compaesani e tutto questo per la guerra voluta da un idiota biffi si alza di scatto gesticola si risiede piange ride ha un'energia formidabile ah mi fa male ricordare ho il cuore debole e poi sa mi fanno tenerezza ste rumene ste ucraine che vengono qui magari sono laureate e puliscono il culo a noi vecchi basta basta prendersela con i forestieri dicono che sono ladri ma noi cos'eravamo anche tra noi c'erano briganti sa quanti imbroglioni abbiamo in italia chi se la prende con gli immigrati non ha memoria quando riparto verso bardi il grande vuoto ricomincia un vuoto spaventoso punteggiato quella di vecchi soli e badanti straniere in africa anche in pieno deserto c'è sempre qualcuno per la strada e sulla strada qui no senti che la vita è altrove l'uomo pare estinto come l'elefante di annibale improvvisamente mi accorgo di viaggiare in uno spazio incomparabilmente più ancestrale e arcano delle alpi queste non sono montagne bomboniera niente alberghi a 5 stelle niente gerane le finestre solo locande anni 50 con la fotografia di bartali il manifesto dell'assemblea dei cacciatori e qualcosa di balcanico nell'aria sul passo di pellizione quota 1029 la strada è così solitaria che per vincere l'angoscia mi sgolo con una vecchia canzone triestina in pseudo tedesco tempo mazzurca allegro combrio grido aggrappato al volante ah magari guidassi un'auto con venti persone qui la notte si avvicina con un buio pieno di balene che ti entra nell'anima e la topo piccolina con le sue lucette rosse bianche è solo un mouse che esplora l'immensità la notte minghiotte in un villaggio di nome noveglia con un vento umido di mare che rimesta temporali e un'atmosfera da funerale di terza classe c'è tempesta in liguria sussurra l'anziano proprietario dell'agriturismo il castagneto dove approdo in un turbine di nubi parla di tempesta ma è come dicesse sabba di indemoniati chissà forse i liguri fanno ancora paura mi accompagna in una stanza anni 50 con la pioggia che tamburella sui vetri e un odore dimenticato di legna di quercia poi torna ad apparecchiare la cena in cucina un vano surriscaldato di 8 metri per 5 con una lunga tavolata un divano e un acquaio secolare ha voglia di parlare e la moglie pure lo stufato borbotta sul fuoco sul tavolo ci sono un salame di cinghiale e una bottiglia di rosso noveglia è il posto dove finisce il mondo si lamenta la donna con un querulo a cento emiliano indurito dalla quota da qui tutti se ne vanno capisco che vorrebbe chiedermi cosa diavolo mi spinga qui alla fine di tutto insiste arrivano solo le bestie selvatiche le montagne sono piene di istrici vipere volpi e poiane versa un bicchierino di liquore di noce il mio ascolto attento la conforta capisco che la cosa le sta a cuore una volta non ce n'erano di rapaci sulla montagna non c'era bisogno di tener chiuse le galline tutto il giorno come come oggi di nuovo animali mi sento un monaco amanuense che sfoglia un bestiario medievale non ce l'ho con queste bestie prosegue la donna ai fornelli ma con chi le ha portate un momento come sarebbe qualcuno ha portato qui poiane vipere istrici e volpi certo li ho visti io sono venuti con borse piene di vipere giuro hanno detto che dovevano ripopolare la montagna sì ma chi erano studenti scienziati professori forestieri li ho visti che spargevano i serpenti sui prati e poi turisti non oso chiedere se si tratti di incubi o realtà certo è che per questi montanari la pianura alla montagna porta solo danno la coppia ha voglia di compagnia lui in particolare non mi lascerebbe mai partire intanto il vento rinforza e il cane comincia a ululare in questa solitudine tutto si è rovesciato l'invasione dei predatori non è più la conseguenza ma la causa dello spopolamento scendo verso il paese una manciata di lumini nel buio la topolino mi guida verso una locanda di nome geppetto con sulla porta sotto un lampione un cuoco effettivamente identico al padre di pinocchio ha un grembiulone bianco e la sigaretta accesa mi gela ghignando benvenuto signore nel posto dove il mondo finisce anche lui che io sia davvero al capoline del viaggio cosa si nasconde a noelia dimenticato cul de sac della provincia parmese deve essere un avvertimento serio da non prendere sotto gamba ma poiché non ho mai amato gli osti complimentosi quell'ironica rudezza sconosciuta in pianura non fa che solleticarmi e spingermi a entrare non esiste nessun motivo in mi dico per cui un taverniere debba scoraggiare un avventore ancora non so che la frase fatidica è il prologo di un'accoglienza da re dentro è pieno di gente allegra il clima è quello sul riscaldato del pub irlandese e della taverna balcanica anche in montenegro e in irlanda mi è capitato di trovare in mezzo a nulla locande zeppe di avventori in stato di euforia arde il forno a legna geppetto ricompare paunazzo dalle cucine la gente scappa da qui e non sa cosa si perde spiega scodellando una magnifica pizza al pesto comincio a capire questa è italia vera al tavolo vicino c'è un indigeno simpatico che mi dicono si è costruito un mulino mobile a motore luigi spagna si chiama e da quando in valle i mulini ad acqua hanno smesso di girare lui porta con un trattore il suo trabiccolo a fornovo o a morfasso varano o pianazza paesi di lupi e carbonai il cuoco si siede con noi e chiarisce la sua scelta io vengo dall'inferno romagnolo dico inferno perché lavoravo come un pazzo e ho smesso di vivere è stato solo qua alla fine del mondo che ho ritrovato la vita sa cosa le dico pianura mai più lo guardo bene il fuoco gli arroventa il profilo con un riflesso arancione come la balena sembra uscito anche lui dalla storia di collodi e io finisco per sentirmi fatalmente pinocchio